Una cattedrale nel deserto, svuotata di funzioni, di personale e snaturata nei servizi. Sigle sindacali unite all'unisono nella ricerca di risposte dalla politica sul futuro dell'Unione Pian del Bruscolo. Un'unione, sottolineano i sindacati, che ha perso progressivamente la sua prospettiva originaria con cui fu assemblata 21 anni Orsono. Un'unione che aveva 25 dipendenti, che ora ne ha 11, 9 dei quali hanno fatto richiesta di trasferimento. Un'unione dunque sempre meno unita, il cui ultimo sfilacciamento è arrivato dal Consiglio Comunale di Pesaro di settembre, che ha votato l'uscita del capoluogo per quanto riguarda i servizi di polizia municipale e informatici. Doveva diventare e poteva essere la più grande e importante unione delle marche, nel tempo è diventata una roba un po' diversa, perché ci sono stati fuggi e rifuggi da tutte le parti e sono rimasti senza personale, senza servizi, senza un'idea di progetto, quindi non so cosa possono rispondere alle esigenze della gente. Io quello che non posso accettare rispetto a una legittima decisione del Comune di Pesaro di riprendersi i servizi che ci sta, non me la vendete però che sia come un rilancio dell'Unione Pian del Bruscolo, perché così non è. Per rilanciare un'azienda o un ente si rafforzano i servizi, si mette il personale e si risponde alle esigenze veramente dei cittadini. Tra il rientro delle funzioni di polizia locale e dei sistemi informativi dall'Unione al Comune di Pesaro, tra le mancate assunzioni che sono state fatte all'Unione Pian del Bruscolo e le mobilità che il personale ha fatto dall'Unione, quindi lo svuotamento delle funzioni principalmente amministrative del personale, e questo ha creato l'incertezza nella polizia locale e anche nel poco personale che è rimasto, ad oggi un unico dipendente a tempo indeterminato e pieno tra gli amministrativi. L'Unione di fatto è stata creata per fornire servizi alla cittadinanza, per riunire la forza di alcuni comuni che magari all'epoca, era lontano 2003, non avevano la forza per gestire di fatto tutti i servizi. A questo punto si chiede all'amministrazione di capire quale sarà la visione per il futuro. E in tutto questo non dobbiamo scordarci quello che è il ruolo dei dipendenti che restano in capo all'Unione Pian del Bruscolo. Quindi ecco la domanda che si rivolge in questo momento è quella di dare una prospettiva sia all'Unione in quanto tale che a quello che sono tutti i dipendenti che restano in capo all'Unione Pian del Bruscolo.